resilienza è un termine utilizzato con sfumature molto diverse ma il significato è più o meno sempre lo stesso a seconda infatti dei contesti no in metallurgia addirittura in metallurgia si parla di di resilienza cioè è la capacità di un metallo di resistere agli urti senza spezzarsi resilienza è come resistenza resistenza ma non solo quando si parla in particolare di esseri umani e infatti questo concetto lo ritroviamo nel significato opposto a quello di fragilità nel campo della psicologia in cui la resilienza è studiata come la capacità di non piegarsi di fronte all'avversità ma di riorganizzare positivamente la propria vita dalla città di roma della città che ancora rappresenta questo splendido paese davvero possa rinascere una voglia e un modo di fare politica assolutamente nuovo e assolutamente diverso a cui tutti stiamo aspirando questa conversazione che noi faremo oggi è una conversazione non fatta attraverso i formati che di solito si utilizzano in questa aula i mici thank ludvico rossi prini 12 milioni di conoscenza no that she's a force of nature and she had this idea that we should have this conversation here in rome about rebirth and resilience and the opportunity to make a difference that we all share and when luvica has an idea things happen and here we all are today today we as a global community are failing 165 million children around the world suffering from chronic malnutrition rebirth is a road undertaken at many levels countries go through it companies go through it families go through it we go through it as individuals i would like to share with you my story of rebirth at both a professional and personal level as it is an allegory for the italian story the story of a country my grandparents came from a country that i love so what do you see when you look at this picture do you see opportunity do you see a change maker do you see hope so i would ask you the same question that i asked of the woman begging in the streets what do you see when you look at me do you see an adventurer an activist a mother a daughter a fighter or perhaps do you see a victim food is the most authentic and sincere expression of fruits and of tradition it's not at all about an epicurean project about wonderful tasting bread or wonderful tasting cuisine but it was just about a wonderful expression of who we are where do we come from and what do we stand for interessante come gli economisti stiano anche guardando alla alle scienze ambientali e all'ecologia quando riflettono sulla resilienza dei sistemi cioè la capacità dei sistemi non tanto di resistere quanto di assorbire uno shock improvviso esterno e rimbalzare perché resilienza è una parola per una volta non importiamo anglicismi è parola latina e il verbo vuol dire rimbalzare letteralmente problema del dell'immigrazione che arrivano le nostre porte di mare è un problema che ha dei radici lontani tutti quanti abbiamo chiara percezione del fenomeno questi giorni i think it's appropriate to remember somebody who i really admire a great thinker a great philosopher Sigmund Freud who when thinking about the human mind thought that the human mind actually resembles Rome he thought that the human mind is like Rome because on top of it you see what is there but you also see the ruins of the past but the ruins of the past are only the surface of the mind because below those ruins are layers and layers of creation and destruction which also means rebirth and resilience will be a better way to the future of the past are the future of the future of the past are the future of the past are the future of the past is